O io volete un drink? Io ho un succo di prugna. Io boh, una birretta. Una bella vodka al melone. Ma esiste. Comunque io ho un succo alla pesca, tranquillo. O io torno tra poco. Per piacere, non andate via. Restate. I giochi inizieranno a breve. Non vorrete perdermi. Go. Continuo a pensare che sia una trappola. Mattia, te lo devo ripetere? Se uno ti offre qualcosa, lo devi accettare. Anche ma il buon lato non si guarda in bocca. Io me ne vado da qui. Non mi farò intrappolare. E fa come te pare. Mattia inizia a girare per la casa, cercando una via di uscita. E se provassi ad uscire dalla finestra del bagno? Mattia si arrampica per raggiungere la finestra, ma lo sciaccone si rivela una trappola. Il water si apre e Mattia cade. Questa casa è piena di trappole. Devo trovare un modo per uscire di qui. Oio, i drink che avete chiesto. Era ora, dov'è il mio succo di prugna? Eccolo. Non capisco come fai da bene quello schifo. Parla a quello che ha preso la vodka al melone. Ragazzi, mi raccomando, buttateci tutto. Goccetto per goccetto. Oio, padrone, qui è inconcluso, ma mi sembra ne manchi uno. Non lasciartelo sfuggire. Potrebbe dire a qualcuno quel che è successo. Mattia, non rompere il cazzo. Lo sapevo che si sarebbe messa male.